Benvenuti in Candino. Candino Orologi è un marchio che nasce dalla passione e dalla tradizione dell'orologeria svizzera, ma che sa anche innovare e adattarsi ai tempi. Fondata nel 1947 a Biel, da Adolf Flury Hug, Candino Orologi produce da oltre 70 anni orologi dallo stile semplice ed elegante, che si distinguono per la loro qualità e precisione. Nel 2002, Candino Orologi entrò a far parte del gruppo Festina, una delle più importanti realtà nel settore dell'orologeria, che comprende anche i marchi Lotus, Jaguar e Calypso. Questa acquisizione permise a Candino Orologi di beneficiare di una maggiore distribuzione e visibilità, oltre che di un supporto tecnico e logistico. Candino Orologi, tuttavia, mantenne la sua identità e la sua autonomia produttiva, continuando a realizzare orologi interamente in Svizzera, con il marchio Swiss Made. Gli orologi Candino sono realizzati con materiali di prima scelta, come l'acciaio, il vetro in zaffiro, il titanio e la ceramica. Il design degli orologi Candino è semplice ed elegante, ma anche moderno e raffinato. Candino Orologi propone una vasta gamma di modelli, suddivisi per uomo, donna o unisex, che si adattano a ogni occasione e a ogni gusto. Candino Orologi è un marchio che ha saputo conquistare il cuore di molti appassionati di orologi, grazie alla sua storia, alla sua qualità e al suo stile. Candino Orologi è anche un marchio che non smette mai di sorprendere, con la sua capacità di innovare e di proporre nuove collezioni, sempre in linea con le tendenze e le esigenze del mercato. Candino Orologi è il marchio ideale per chi cerca un orologio di lusso e di eleganza, ma anche di tecnologia e di efficienza.